Ma il mio governo per otto anni e mezzo in una regione significativa del sud Italia è stato un esempio di stabilità e se posso dirlo anche un esempio di capacità di governo visto da qualunque indicatore economico. Qualunque indicatore economico si voglia assumere possiamo dare lezioni di buon governo a qualunque altra esperienza amministrativa.